Una Volvo V60 ibrida plug-in ricoperta di muschio scavato dalle impronte di alci, lupi e volpi. E' questa l'idea di Federica Croce, studentessa del Polidesign a Milano, vincifrice del progetto The Agreement che ha accomunato il passaggio di una Volvo Emissioni Zero a quello degli animali che attraversano le foreste lasciando impronte che non ne alterano l'equilibrio. Volvo ha fatto su il messaggio che anche un'auto può e deve essere amica dell'ambiente, non solo tramite motori puliti ma con decisioni strategiche a livello industriale, come lo stabilimento motore di Skovde in Svezia a impatto zero o il progetto di eliminare 20 milioni di plastiche monouso sostituendole con articoli biodegradabili.